Il tavolo e elevatore a pantografo Tablare M del sistema Scala facilita la preparazione delle lezioni e riduce i tempi di allestimento degli esperimenti da parte degli insegnanti. Gli esperimenti non più necessari possono essere riposti nell'armadio per un successivo riutilizzo e protetti dalla polvere. Nell'armadio è presente spazio a sufficienza per 3-4 piani di lavoro. Con comando elettrico a due mani, il tavolo e elevatore a pantografo viene portato all'altezza desiderata per deporre o prelevare i piani di lavoro. Grazie alla sua altezza flessibile, il tavolo Tablare M è idoneo anche per l'esecuzione senza barriere di esperimenti. Grazie a tutti!